Buon pomeriggio a tutti. Il nostro presidente dell'Accademia non vuole dire una parola di apertura? Abbiamo un presidente bravissimo e lo vorremmo coltivare. Voglio ringraziare il professor Donati primo perché è con noi e secondo perché ci ha consentito di alternare anche una lezione all'altra quindi la sua cortesia e la sua disponibilità. Ovviamente ci conosciamo tutti quelli che siamo qua anche quelli che ci seguono eh in rete e questa ci è sembrata una cosa molto importante perché proprio questo passaggio da individuo utente a cittadino persona è l'argomento che abbiamo sviluppato qua. Ci ricordiamo tutti ancora la lezione che ha tenuto ehm eh Andrea Morrone nella seduta precedente dove ha parlato degli articoli due e tre della Costituzione e c'era anche Paolo Pombeni che ha fatto una lezione storica molto bella proprio perché come dire ha sottolineato l'emergenza della della persona. Eh perché noi abbiamo scelto quest'anno questo argomento perché ci sembra quello che mette in una condizione di collegamento cittadino e individuo quindi in questo momento abbiamo e quindi io ti ringrazio molto perché è qua il sociologo è fondamentale. Grazie. Io Paola eh fa la cortesia di precedere quindi l'Accademia eh è qui che ti ringrazio. È è un onore ehm presiedere presiedere questo pomeriggio col professor Pierpaolo Donati eh io ehm ho il felicissimo compito di introdurlo di presentarlo ma eh ecco ehm mi sono imposta di dire solo pochissime parole perché altrimenti le parole necessarie per descrivere il profilo scientifico del eh professor Donati sarebbero troppe. È ehm professore della dell'Università di Bologna, un illustre professore che ha segnato tante tappe e del nostro Ateneo, è un sociologo di fama internazionale, è una vera personalità nel suo ambito scientifico e non solo è ehm ha questa rete e uso la parola rete per ora perché è abbastanza neutra rispetto dalla teoria eh che ha fondato di eh relazioni internazionali che hanno portato alla sociologia italiana nel mondo, fa parte di associazioni scientifiche ovviamente del settore eh numerosissime italiane e non e non italiane, un solo esempio è membro dell'Accademia Pontificia, questo significa che data la mh attenzione con cui l'Accademia Pontificia seleziona eh i propri soci eh oggi abbiamo un eh un socio veramente eccezionale della nostra Accademia. Ha scritto tanti libri e tanti articoli. Eh alcuni sono manuali, manuali universitari che hanno accompagnato quante generazioni di studenti, migliaia di studenti, dico così perché eh se la tua vita accademiche lunga come la mia ne abbiamo visti tanti no? Cinquant'anni, fatto i conti, due, almeno due insegnamenti per anno, fate i conti, sono migliaia, migliaia. Noi non ce ne rendiamo mai, non ne siamo mai ben consapevoli che il nostro mestiere eh non è poi eh così un privilegio eh spesso è un onere non perché è una fatica ma perché sulle nostre spalle ci sono responsabilità che dovremmo considerare tutte le volte che eh entriamo in un'aula. Allora migliaia di studenti che hanno studiato sui tuoi manuali sono migliaia di studenti che si sono aperti a una particolare visione del mondo, a una particolare concezione. Ma oltre ai manuali che ovviamente hanno una forza eh di divulgazione particolare, il professor Donati ha scritto degli articoli molto rigorosi molto anche difficili da leggere che richiedono delle competenze specifiche e eh vorrei sottolineare solo un contributo che poi forse è il filo conduttore di una certa da un certo punto in poi della sua vita scientifica che è questa teoria della società relazionale. È attorno agli anni ottanta perché il primo volume in cui è del 82, 83, ecco quindi andiamo indietro di quarant'anni esattamente di quarant'anni però il primo volume non è altro che la sintesi di un pensiero che già da prima si stava formando perché non è che si scrive un libro così eh improvvisando. Ecco la sociologia questa sociologia relazionale è e allora negli anni ottanta era un concetto credo assolutamente nuovo e infatti eh se voi andate su Google a vedere il fondatore della teoria della sociologia relazionale è il professor Pierpaolo Donati a cui si sono agganciati poi nel tempo studiosi di tutti di tutte le nazionalità che l'hanno commentata destrutturata ristrutturata ci hanno lavorato tantissimo ehm ma è lui il fondatore così ha cominciato nell'ottantatré a introdurre questa teoria e ancora oggi questa teoria è un punto fondamentale delle nuova visione che la sociologia si sta dando e questa teoria eh è diciamo che è molto moderna anche se ha delle radici a mio parere antichissime perché eh se per le scienze umane questa è una novità perché esce dal concetto di persona come un individuo va ben oltre al concetto di insieme di persone che fanno una società perché la sociologia relazionale è tutt'altra cosa la società diventa una entità che eh è costituita da individui ma il professor Donati dice no non è costituita da individui è costituita dalle relazioni adesso io semplifico perché non ho il linguaggio non ho il linguaggio ovviamente del sociologo io sono una teorica della statistica ma mi ci sono ritrovata benissimo allora questo concetto di relazione di sistema come sociale di sistema eh naturale biologico vivente come relazione è molto antico perché può risalire alle teorie evoluzionistiche di Darwin e via via eh fino a Maynard Smith insomma eh è qualcosa che nelle scienze fisiche nelle scienze naturali è quasi scontato però eh il passaggio delle scienze umane non è così banale cioè se ci sono delle eh somiglianze o delle analogie mh è necessario essere molto prudenti perché si possono fare degli scivoloni cioè pensate a Spencer quando ha pensato di riprendere i concetti dell'evoluzionismo darwiniano e beh poi si è spinto oltre e ovviamente non poteva sostenere questo ehm questo paradigma che funzionava nel mondo naturale degli animali e delle piante ma non poteva funzionare allo stesso modo nel nella nel mondo sociale allora questi sono veramente eh questo è un argomento di grandissimo interesse e sulla base di eh questa sua teoria poi il professor Donati ha ha declinato con una eh particolare concretezza ha declinato la sua teoria ehm in contesti particolari quindi eh questa teoria della sociologia relazionale come può spiegare le dinamiche per esempio della famiglia come può spiegare le dinamiche di di un'impresa vedete che sembrano categorie diversissime una famiglia un'impresa invece se eh una teoria è davvero una teoria deve poter contenere realtà apparentemente diverse perché la teoria è una teoria e ehm bisogna solo trovare ovviamente le parole giuste e la collocazione giusta dei fenomeni che caratterizzano queste ehm queste particolari sottospecie di di società io mi ci sono trovata benissimo nella teoria del professor Donati perché ovviamente come vi ho detto eh sono una uno statistico teorico e eh ecco i modelli ci sono dei modelli potentissimi matematico statistici che sulla ehm relazione all'interno e all'esterno di un sistema fondano ehm costituiscono possono costituire la base di spiegazioni che eh anche sul piano eh rigorosamente matematico possono tenere in piedi queste teorie se il professor Donati non si offende eh ci sono degli metodi non si offende nel senso che non ritiene di sviluppare la sua disciplina eh ci sono dei modelli matematici che sono talmente potenti nella loro capacità di spiegare che ehm si eh insinuano nelle teorie scientifiche anche eh nelle scienze umane proprio per eh tracciare e come eh la trama di un tappeto poi sopra ci metti tutto ma quella è una trama che può aiutare quindi te lo propongo come ulteriore approfondimento qui naturalmente ci fermiamo e lasciamo al professor Donati eh questo questo aspetto che ci porta un po' fuori dal concetto di persona e colloca la persona in tutt'altro contesto. Prego. Grazie mille alla professoressa Monari per questa generosissima presentazione. Ci conosciamo da tanti anni. Ho insegnato anche nel dipartimento di statistica quando vinsi la cattedra nell'ottantuno lontano ottantuno. Era uno dei più giovani allora. Ehm e grazie a professor Walter Tega che mi ha eh suggerito questo titolo da individuo utente a cittadino persona. Io ho pensato di inquadrare il tema eh all'interno della evoluzione dello stato sociale per capire appunto come diceva molto bene la professoressa Monari l'emergenza ci vuole una teoria dell'emergenza della persona eh all'interno diciamo del dibattito sul nuovo stato sociale eh nella nel corso della storia. Permettetemi di di partire con questo brevissimo escursus dello stato sociale. Quello che noi chiamiamo welfare state e che tra non sapendo diciamo bene come tradurlo letteralmente sarebbe lo stato del benessere ma eh insomma il benessere è un concetto impegnativo per cui diciamo stato sociale e molto brevemente eh io ho molto studiato questo aspetto ma lo sintetizzo al massimo abbiamo avuto finora tre modelli di stato sociale perché lo stato sociale è cominciato col modello paternalistico dello stato di politeia dove politeia non vuol dire polizia ma buon governo del sovrano illuminato del sovrano illuministico Elisabetta prima d'Inghilterra eh mise le leggi sui poveri nel mille e cinquecento eh novantotto fino al mille e seicento uno poi venne Spinham Land nel grande dibattito in Inghilterra ma soprattutto sono stati i sovrani illuminati cioè Federico II di Prussia nella prima metà del settecento e poco dopo Maria Teresa d'Austria che hanno introdotto che cosa? Un modello paternalistico nel senso che il sovrano si impegnava per il benessere della popolazione eh era un inizio dello stato diciamo quel tempo preoccupato delle condizioni della popolazione era però paternalistico cioè dire il sovrano bontà sua andava verso i poveri gli indigenti eccetera. La prima grande svolta che c'è stata è stato il modello assicurativo quando von Bismarck lo ha introdotto alla fine dell'ottocento fra mille ottocento ottantotto mille ottocento novantatré circa cioè il modello assicurativo significa eh assicuriamo le persone all'inizio anche in modo obbligatorio contro certe casualità della vita quindi la disoccupazione la malattia eccetera. Questo modello è stato poi preso dagli Stati Uniti dopo il New Deal dopo la grande crisi del ventino tant'è vero che il modello americano è un modello essenzialmente assicurativo come quello della Svizzera basato essenzialmente su assicurazioni però eh negli anni trenta e quaranta del secolo scorso è arrivato questo nuovo modello che chiamo interventista assistenziale di Kins sul piano economico quindi di spesa ehm per soprattutto i disoccupati la povertà che che cresceva il modello beverigiano contro la disoccupazione in particolare eccetera eccetera. In un certo senso noi tutta la novecento fino alla fine del novecento è stato un misto di assicurativo e di interventismo assistenziale. Ora c'è bisogno di eh fare un salto e io chiamo questo salto il welfare relazionale o di quarta generazione di cui di cui spiegherò. Ehm il senso di questo nuovo welfare appunto è precisamente quello di ehm passare dall'individuo come direbbe Marx Carlo Marx l'individuo casuale nei manoscritti economico filosofici cioè l'individuo casuale significa quello tolto dalle reti eh locali del villaggio, della parentela, della famiglia e portato sul mercato formale astratto del lavoro ehm quell'individuo casuale che invece appunto eh noi oggi tendiamo a riconsiderare nel suo contesto relazionale no? Con molta attenzione a dove vive e perché è in condizioni di bisogno ehm per il fatto che certo il lavoro ma anche la situazione familiare la condizione di salute eccetera eccetera ora questo individuo deve appunto riprendere eh come dire il suo contesto relazionale per essere trattato individualmente ma io direi soggettivamente con riguardo alla sua alla sua soggettività. Beh andiamo avanti perché le slide sono molte e cercherò però di ehm di sintetizzare. La situazione attuale è quella della persistenza del modello assistenziale anche nella filosofia dei trattati UE cioè Maastricht, Lisbona, Nizza eccetera la bozza di costituzione europea non ratificata. Perché è un modello assistenziale? Perché la protezione sociale è in funzione del mercato. È essenzialmente in funzione del mercato. Quindi se si fa una spesa sociale cosiddetta eh il titolo iniziale del professor Tega diceva l'accesso al sociale appunto l'accesso ai benefici sociali è in funzione del mercato. Eh non dei diritti umani non delle condizioni di vita di un certo tipo ma del mercato e il master plan dell'Europa è ancora oggi un modello che io chiamo per sintetizzare LibLab. Cosa vuol dire? Liberale, laborista. Nel senso che l'inclusione sociale avviene attraverso più competizione di mercato il lato LIB quindi più libertà di mercato più competizione di mercato e dove il mercato fallisce o genera diseguaglianza o problemi c'è la compensazione della protezione sociale cioè il controllo per l'uguaglia l'uguaglianza di opportunità da parte dello Stato e questo è il lato lab. Quindi noi viviamo ancora diciamo in uno Stato sociale fondamentalmente costruito su un compromesso fra Stato e mercato. Quando fallisce il mercato si fa l'intervento dello Stato, quando fallisce lo Stato si fa intervento di mercato. Ora questo modello è entrato in crisi e già ci stiamo muovendo verso un altro tipo di Stato sociale eh farò tanti esempi concreti anche particolari proprio sul comune di Bologna sulla nostra realtà per mostrare che eh c'è questa tendenza verso quello che ho chiamato un quarto modello eh non paternalistico non assistenzialistico e neanche puramente assicurativo. Perché diciamo la crisi del modello eh Lib Lab molto brevemente perché ancora riferito all'individuo eh come utente quindi in qualche modo passivizzante eh tutti i benefici anche i bonus si parla di bonus di super bonus di questo sono tutte compensazioni diciamo per il fallimento della del mercato per il fallimento degli scambi nella società civile perché c'è un eccesso di burocrazia ci sono le trappole della povertà la trappola della povertà significa che questo sistema Lib Lab si dà sì qualche cosa no ai chi è nella condizione di povertà relativa o assoluta ma quello che si dà non incentiva a uscire dalla povertà ma invece incentiva a rimanere nella povertà e quindi è una trappola quel modo di agire l'accesso al sociale diciamo c'è il tetto di cristallo per le donne che tutti sanno cioè la difficoltà per le donne della mobilità sociale ascendente di arrivare diciamo ai vertici del del mondo del lavoro il terzo settore per dirla molto in breve è ancora relegato al ruolo marginale di di croce rossa cioè viene chiamato in causa il terzo settore vuol dire volontariato cooperazione sociale associazioni civili eccetera sono molto coinvolte ma sono coinvolte appunto nelle condizioni di emergenza e non e non valutate sufficientemente rispetto al ruolo che hanno lo Stato e il mercato dirò poi di più e infine l'aumento delle diseguaglianze il modello Lib Lab produce fortissime diseguaglianze e il perché è un discorso molto lungo che diciamo è un po' parallelo ma non centrale nel nostro discorso e quindi ci chiediamo è possibile innovare le politiche sociali cioè che che razza di innovazioni dobbiamo introdurre allora per parlare di questo io vi propongo due semantiche dell'inclusione sociale cioè come si fa a includere chi è in stato di bisogno perché è disoccupato perché è una malattia cronica invalidante eccetera per chi ha una situazione insomma di bisogno pesante no ci sono due due semantiche due modi di farlo quello che io chiamo il codice statuale cioè l'appartenenza al welfare state nazionale lo Stato Nazione ha un suo welfare state e dice bene io ti do qualche cosa no per compensare il tuo Stato di bisogno io ho cominciato appunto come ricordava la professora Monari a ragionare sul fatto se questo modello diciamo non tiene abbastanza conto della società civile di di quelli che sono le realtà della società civile per esempio vi ricordo che il maggior teorico inglese di politica sociale che è Richard Titmus Fabiano degli anni degli anni cinquanta e sessanta distingueva tre tipi di welfare quel welfare che lui chiamava residuale cioè lo Stato non se ne occupa e dice ci pensi la famiglia io intervento intervengo solo ex post se c'è un fallimento della famiglia il welfare meritocratico acquisitivo come lui diceva cioè quello che ci si paga privatamente soprattutto per le classi medie professionali manager eccetera e poi il welfare istituzionale dello Stato voi vedete che qui manca la società civile ma anche completamente la società civile perché o c'è la famiglia sola insomma isolata diciamo con i soli membri della famiglia o c'è il mercato ci si compra l'assicurazione sul mercato o c'è lo Stato e tutta la società civile pensate a tutto il mondo della cooperazione delle fondazioni civili delle organizzazioni di volontariato delle ONG le organizzazioni non governative eccetera eccetera tutte queste non producono forse benessere forse non non consentono un accesso al sociale cioè una diciamo un accesso a servizi di cui hanno bisogno moltissimo ma nel modello Lib Lab non c'è posto per questo purtroppo diciamo si comincia ora a parlarne anche a livello dell'Unione Europea c'è apertura in questa direzione ma ancora bisogna fare dei veri e propri riconoscimenti perché il modello diciamo europeo che pure è un modello molto meglio di quello americano in quello americano non ne parliamo neanche quello americano è allo Stato della pietra ancora perché è tutto affidato alla famiglia al mercato lo Stato fa pochissimo fa in maniera residuale l'altro codice che io appunto propongo è quello societario nel senso che implica tutta la società non solo lo Stato e il mercato principalmente lo Stato evidentemente ma tutta la società e quindi il problema è come includere nell'accesso al sociale ai servizi eccetera tutta la società civile assieme ovviamente allo Stato al mercato e tutti gli altri attori e nel codice societario diciamo la la filosofia è che i cosiddetti entitlements nome tecnico per dire le intitolazioni a un servizio a un beneficio a un diritto sociale non fanno più riferimento solo alla cittadinanza statuale cioè io sono italiano la cittadinanza quindi ho diritti di welfare eccetera che mi dà lo Stato che mi dà il governo ma fa riferimento ai diritti umani si intende i diritti umani fondamentali come criterio universalistico di inclusione sociale quindi qui entrano anche diciamo i non cittadini nel senso che non sono non hanno ancora la cittadinanza che hanno solamente magari una residenza fisso o addirittura sono rifugiati eccetera nel linguaggio internazionale si parla di denizens cioè di non citizens ma quindi che non hanno la cittadinanza ma hanno diciamo una uno status protetto all'interno dello Stato nazionale pur non essendo cittadini formalmente cittadini il passaggio quindi diciamo che va verso il riconoscimento della persona di cui parlo dopo anche sul concetto di persona a mio avviso sta in questo passaggio da un codice statuale a un codice più ampio societario dove c'è lo Stato ma ci sono anche tutti diciamo gli altri attori della della società se vogliamo fare diciamo un'analisi più analitica dettagliata di questo passaggio dobbiamo fare il confronto fra i due codici dell'inclusione sociale quello Lib Lab è quello che io chiamo societario o relazionale potrei qui diciamo commentare tantissimi di questi aspetti ma mi limito non so se tempo per farne sei ma giustamente diciamo qualcuno va va citato innanzitutto il principio di cittadinanza no il principio di cittadinanza nel modello Lib Lab è la massimizzazione dell'inclusione politica uguale per tutti a fronte di bisogni uniformi cioè prestazioni standard in base a condizioni di vita e al minstens il minstens è la prova dei mezzi in concreto da noi è l'ISE l'ISE viene usato come prova dei mezzi si dice tu che ISE hai bene se sei sotto hai diritto se sei sopra non hai diritto a un beneficio sociale ora capite che questo è già un grosso questo modello diciamo io non lo sottovaluto per niente perché rispetto agli altri modelli precedenti di inclusione sociale è un grosso avanzamento però al limite di diciamo uniformare i bisogni i bisogni vengono standardizzati come i servizi e qui bisogna stare molto attenti per esempio quando anche parliamo dei LEA dei livelli di assistenza minimi diciamo che sono nel nuovo titolo quinto eccetera della 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 Costituzione dobbiamo un po' stare attenti perché è benissimo con i livelli minimi di assistenza però attenzione a non standardizzarli più di tanto perché se li standardizziamo cioè se diventano uniformi omogenei eccetera hanno degli effetti perversi perché tutti sanno che se io tratto in modo uguale cioè standardizzato i diversi e genero più più disegualianze invece che risolverla perché il nostro problema come vediamo poi andando un attimo avanti è proprio che il concetto di persona dice quanto bisogna personalizzare il servizio non uniformarlo standardizzarlo ecco quindi che il discorso diventa in un modello societario relazionale il principio di cittadinanza è una generalizzazione di garanzie minime per tutti e differenziazioni del welfare secondo la progettualità delle persone nei loro contesti cioè il problema è appunto non tanto compensare uno svantaggio che è importante ma invece chiedere alle persone una partecipazione una progettualità per cui ciò che si finanzia diciamo l'intervento che si fa l'assistenza che si dà eccetera non è per stabilizzare o rimediare ma è per far sviluppare la la condizione della persona quindi guardare alla progettualità lo vedremo non so pensate al caso delle pensioni pensate al caso dell'assistenza domiciliare eccetera eccetera cioè se io offro un servizio standardizzato eh creo dei grossi problemi bisogna personalizzarlo cioè adeguarlo alla situazione della persona facendo un plateau una 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 garanzia minima per tutti un plateau diciamo uguale per tutti questa si chiama tecnicamente safety net una rete di sicurezza minima per tutti va bene ma data questa eh safety net si creano diciamo eh degli interventi che si adattano alle singole persone in base alla loro progettualità quindi per esempio il secondo indicatore è quello della referente delle politiche che è il referente delle politiche sociali nel modello lib lab sono condizioni sociali definiti in rapporto al mercato capitalistico e cioè le categorie bisognose la costituzione ha un altro termine indigenti eh il nuovo modello quindi non dice semplicemente vabbè se tu sei stato espulso dal mercato del lavoro oppure sai eh una malattia per cui hai un reddito minimo sei in cassa integrazione o questo questa hai delle difficoltà lì no il problema è eh scusate il problema è a quel punto invece promuovere eh degli stili di vita sostenibili per ogni persona nelle diverse formazioni sociali vediamo che questo è è anche una combinazione degli articoli due e tre della Costituzione che ho sentito che già sono stati ben commentati ma che io leggerò proprio in questa chiave di eh adattamento diciamo alle condizioni delle persone eh vediamo un attimo altri indicatori la copertura dei rischi la copertura dei rischi è nel modello statuale la l'assicurazione obbligatoria hm per categorie professionali e compensazione alle quote marginali per via fiscali qui invece nel modello relazionale come tutti sappiamo e qui ci stiamo stiamo già muovendo in questa direzione ma in maniera ancora un po' scarsa nuovi mix di copertura dei rischi attraverso combinazioni fra assicurazioni obbligatorie integrative forme di mutualità e solidarietà primaria e secondaria non che prima non esistessero diciamo forme mutualistiche o integrative ma erano residuali mentre qui vengono combinate c'è una combinazione diciamo eh nel pacchetto assicurativo di tutte queste eh componenti che appunto riflettono la progettualità e la flessibilità di ciascuna persona in base alla sua condizione cioè in base al tipo di se sta vive solo come un anziano oppure ha una famiglia ha insomma situazioni le più diverse no? Eh quindi il ruolo dello Stato il ruolo dello Stato è qui è uno Stato prevalentemente istituzionale con integrazione di welfare acquisitivo meritocratico cioè di assicurazioni comprate privatamente acquistate diciamo in base col proprio danaro. Qui invece abbiamo uno Stato sussidiario rispetto alle autonomie sociali e se avrò tempo discuterò cosa vuol dire sussidiarietà in senso verticale cioè dallo Stato alla società civile in senso orizzontale fra Stato e terzo settore e in senso laterale di cui in Italia parliamo poco mentre invece per esempio la Germania ha un fortissimo ehm principio di sussidiarietà laterale eh addirittura elevato a rango costituzionale. Quella laterale è fra soggetti di società civile cioè mentre la sussidiarietà verticale è lo Stato verso il sole impresa o verso una cooperativa eccetera la quella orizzontale è su una base di parità fra istituzioni pubbliche e terzo settore in generale così è il nuovo titolo quinto della Costituzione. In Italia non parliamo molto della della sussidiarietà laterale per esempio pensate fra famiglia e impresa. Tra famiglia e impresa sono la famiglia e l'impresa sono due realtà civili. Ebbene eh noi adesso quando parliamo di riconciliazione famiglia lavoro e pensiamo ai contratti relazionali cioè contratti che includono non solo la prestazione e la controprestazione sul lavoro ma anche i servizi alla famiglia. Per esempio ci sono contratti relazionali che si fanno con l'audit impresa famiglia il capofile è il comune di Trento e la provincia di Trento che hanno preso un modello tedesco ehm cosa si fa in questo contratto. In questo contratto non c'è solo prestazione e controprestazione il lavoro e quanto ti do il salario ferie eccetera ma anche i servizi se hai dei bambini si offrono dei servizi se hai l'anziano casa che ha bisogno di di sostegni si fanno dentro il contratto lavorativo ecco perché è un contratto relazionale perché è un contratto che riguarda la relazione tra famiglia e impresa ed è fatto fra due soggetti civili. Lì lo Stato non entra proprio e neanche il terzo settore perché è famiglia e impresa famiglia e mercato diciamo così no? Va bene e quindi diciamo voi vedete che cominciamo a avvicinarci all'idea che la relazionalità eh diciamo nella società civile eh ovviamente all'interno del framework di di protezione dello Stato eh comincia a funzionare eh farò tanti esempi da questo punto di vista per portarci verso un modello più attento alla soggettività delle persone cioè al fatto che le persone vivono in condizioni molto diverse le une dalle altre per via della diversa rete sociale in cui sono inseriti e quindi che anche il bisogno deve essere eh diciamo affrontato eh con con la stessa logica. Un altro indicatore è appunto i soggetti di cittadinanza. Eh nel modello statuale blibleb è l'individuo casuale di Max cioè in quanto slegato da relazioni di appartenenza specifica cioè quando si dà per esempio anche il credito di cittadinanza in Italia si dà a una persona che ti dichiara diciamo la sua condizione individuale. Sì poi si chiede l'ISI eccetera ma non 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 si tiene conto della del contesto in cui realmente vive. È un individuo astratto come diceva Max Weber nel mercato formale del lavoro. Invece appunto se noi andiamo verso un modello relazionale sono le persone contestuate in reti di comunità e nelle formazioni sociali intermedie fra individuo e Stato. Quindi l'idea che quindi il bisogno viene valutato nella condizione della rete in cui la persona vive e viene affrontato nella rete attraverso la rete in cui la persona si trova. Questo è stato ed è ancora più utilizzato ad esempio nel modello francese di Stato sociale perché il reddito minimo loro chiamano RMI reddito minimo di inserimento viene tanto viene gestito a livello locale comunale o addirittura sub comunale nei quartieri e tiene conto della rete familiare e non familiare della persona quindi aumenta se ci sono dei carichi familiari eccetera. Invece il nostro reddito di cittadinanza è proprio individualizzato e essenzialmente è ancora troppo legato all'individuo e non alla rete eh di di protezione sociale. Quindi la la gestione delle eh marginalità sociali qui era ed è ancora molto legato alla parola controllo, controllare i gruppi sociali bisognosi definiti in primo luogo in rapporto al mercato capitalistico. Qui invece la promozione della potenzialità quindi l'empowerment, dare potere, capacitare i gruppi sociali che sono carenti di una valida relazionalità sociale cioè incapace di produrre beni comuni, beni relazionali e così via. Cioè un conto è che io ti controllo e dico vabbè se hai eh un certo stato di bisogno ti do qualcosina così sopravvivi o comunque insomma un minimo di vita decente. Un conto è dimmi come possiamo sviluppare eh i beni relazionali, i beni comuni della rete in cui in cui stai quindi tu contribuisci al benessere della comunità della rete in cui stai e e noi ti aiutiamo, ti capacitiamo a fare questo quindi a muoverti no? A svilupparti. Insomma è una sorta di come dire di imprenditorialità sociale no? E ecco quindi quali sono le maggiori innovazioni da questo punto di vista? Innanzitutto la personalizzazione dei servizi eh cosa vuol dire personalizzazione dei servizi lo dico fra un po' eh nella slide successiva perché ha varie eccezioni eh ad esempio l'Inghilterra ha l'accezione del case manager oppure noi possiamo avere quello della flessibilità delle prestazioni io darei ancora un'altra definizione. Un'altra innovazione è quella dei diritti umani oltre il complesso moderno dei diritti di cittadinanza vedremo in che senso e quindi dall'individuo utente alla costituzione relazionale della persona umana come soggetto del welfare come soggetto del suo benessere. Adesso vediamoli sinteticamente. La personalizzazione dei servizi è nata in ambito commerciale. Cioè vedete questa immagine personalizzare vuol dire fare un vestito su misura specie scuro. Faccio faccio tanti modellini qual è che ti piace prendi eh che è una forma appunto commerciale standardizzata eccetera eccetera. E si tratta di capire come può essere intesa la personalizzazione nel caso dell'accesso al welfare che non è appunto commerciale non è un bene commerciale non è un oggetto una merce no? E qui abbiamo appunto varie eccezioni e adesso ne ho sintetizzate due. La prima è il case manager che che è emesso in Inghilterra eh in Gran Bretagna nel Regno Unito già da molti anni ehm cos'è il case manager? Il case manager è eh lo Stato o il governo le autorità locali il comune o la regione ti dà un budget con una persona che te lo gestisce che ti aiuta a gestire questo questo budget individualmente eh personalmente personalizzazione qui appunto vorrebbe anche dire proprio individualizzazione dell'aiuto generalmente finanziario che hai da un'autorità pubblica da un' istituzione pubblica no? Io penso che eh diciamo un'accezione un po' più interessante sia personalizzare un servizio significa promuovere le potenzialità della rete relazionale della persona perché infatti anche il case manager inglese non ha molto risolto insomma è un discorso molto tecnico ma non non ha risolto granché vale soprattutto per gli anziani molto anziani così via che sono un po' impossibilitati ma per le altre età della vita insomma mettiti una persona che ti aiuta a gestire il budget dei benefici che ricevi da dal pubblico dalle istituzioni pubbliche non è non è non è un modo diciamo essenzialmente per personalizzare personalizzare qui vuol dire invece appunto eh promuovere la potenzialità della rete in cui vivi perché è dalle relazioni in cui vivi che mi aspetto eh che emerga un bene comune un bene relazionale che da maggiore aiuti individualità benefici alle persone che stanno assieme torneremo sul concetto di bene relazionale perché il bene relazionale è qualcosa che viene prodotto e fruito assieme ma che aggiunge valore proprio per via delle relazioni sono le relazioni che aiutano eh pensiamo che eh per esempio nella salute nel recupero della salute eh l'OMS ha calcolato che il settantacinque per cento del valore del del recupero della salute dipende dalle relazioni familiari dipende non dall'ospedale non dagli specialisti dalle relazioni familiari come giustamente ricordava la Paola Monari appunto la sociologia relazionale la teoria relazionale va alla ricerca proprio del valore aggiunto delle relazioni nel benessere ciascuno di noi certo c'è la componente reddito la salute eccetera tutte cose singole direi positivistiche diciamo fra fra virgolette ma quello che che più importa è il mondo delle relazioni che abbiamo perché sono le relazioni che ci chiedono sforzi ma anche ci danno risorse eh dal punto di vista del diciamo così del welfare no? Ecco ora nella nostra costituzione repubblicana dal mio punto di vista mh la personalizzazione in senso relazionale c'è è presente ma dal mio punto di vista è ancora vaga perché perché se leggiamo bene gli articoli due e tre si tratta sempre di indiri di diritti individuali leggo solo l'articolo due no? Eh la Repubblica riconosce garantisce i diritti invogliabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali quindi è sempre un diritto dell'individuo nelle formazioni se noi non diamo diritti alle relazioni quindi alle forme sociali famiglie imprese le associazioni civiche eccetera tutto il mondo associativo se non riconosciamo i diritti cioè di come associandosi no? Vivendo assieme o in una famiglia o in un'impresa in una forma di vita dove c'è cooperazione reciprocità fiducia se non riconosciamo il valore delle relazioni non non otteniamo la persona perché perché la persona eh è qualcosa di più e di diverso dall'individuo mh e lo vediamo dopo ecco perché eh passo l'altra slide si tratta di eh integrare il welfare coi diritti umani il complesso dei diritti di cittadinanza moderna eh il complesso dei diritti di cittadinanza moderna è fatta dei diritti civili dei diritti politici e dei diritti di welfare i diritti civili sono le libertà individuali no? Cioè sono tutti i diritti liberali del settecento il diritto alla vita al giusto processo alla diritto all'associazione all'opinione a esprimere l'opinione eccetera 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 il diritto di stampa il diritto di associazione ma sono tutti i diritti civili nel senso delle libertà eh giustamente della della persona i diritti politici sappiamo tutti quali sono la partecipazione il voto per la democrazia politica i diritti di welfare sono le prestazioni socio-economiche per l'integrazione normativa di tutto il sistema quindi sono benefici insomma soprattutto economici ma anche dei servizi sociali di cui sappiamo ma non ci sono propriamente ancora si stanno introducendo ora i diritti umani i diritti in che senso sono diritti umani eh perché li chiamo diritti umani diversi dai diritti civili perché sono diritti relazionali sono diritti alle relazioni pensate ad esempio il diritto di un bambino a vivere in una famiglia essere allevato in una famiglia e non sulla strada o in un in un istituto se il bambino ha diritto a vivere in una fa essere a crescere in una famiglia e non per strada o in istituto di che diritto stiamo parlando non è un diritto politico non è un diritto di welfare non è un diritto civile è un diritto a una relazione è un diritto a stare bene in una fare essere allevato in una famiglia no e quindi io lo chiamo qui il riconoscimento del valore cioè della dignità delle relazioni sociali che implementano gli altri diritti cioè il bambino potrà godere degli altri diritti se ha il diritto alla dignità no di eh essere allevato in una famiglia e non in istituto o in un'altra maniera impersonale no ecco perché ci avviciniamo allora al concetto diciamo di persona dal punto di vista questo è un po scusate sono un po troppo piene io queste slide ma insomma spero che che siano chiare noi abbiamo varie semantiche su che cosa sia una persona sull'identità di una persona umana si intende noi tradizionalmente diciamo la semantica classica premoderna monistica di tipo sostanzialista dice una persona una persona nel senso che l'identità è data da una da un'autologia diciamo monistica nel senso che la persona si spiega da sé per dirle in maniera semplice questo è l'umanesimo tradizionale la persona umana è concepita come autosufficiente autoreferenziale per cui io la chiamo una ontologia irrelata che non ha bisogno di relazioni se noi pensiamo diciamo alla semantica classica classica insomma per citare un nome molto importante aristotile no diciamo la persona è quella entità corpo e spirito quindi incluso la mente lo spirito eccetera di un'entità che non ha bisogno di altro da sé per definirsi come persona lo è in quanto tale ora la cosa che diciamo dobbiamo tener conto è che nella modernità nella semantica moderna che diventa differenziale costruttivista la persona è messa in causa noi abbiamo un bel parlare di persona ma adesso io parlo da diciamo da uno che lavora nel campo del sociale la sociologia della filosofia sociale eccetera tutta la modernità sta perdendo dal punto di vista filosofico sociale della filosofia sociale diciamo così il concetto di persona perché perché sta emergendo emerge un umanesimo anti essenzialista cioè ci dice cosa vuol dire in poche parole la persona non ha una sua natura data ma è una pura costruzione della società e della cultura su quanti articoli dei giornali noi troviamo questa idea no che la persona sia il prodotto della società e della cultura e non abbia in sé una è in un certo modo un capovolgimento della posizione classica per la posizione classica c'è una sostanza c'è una natura immutabile eccetera e quindi poi le persone agiscono nella società ma sono loro in quanto loro qui no qui qui si dice no è tant'è vero che noi oggi abbiamo appunto la rivendicazione che la persona umana che può può cambiare come vuole e stiamo andando verso il transumanesimo il postumanesimo è questo il postumanesimo è dobbiamo diciamo l'uomo è troppo debole la natura umana diciamo uomo e donna si intende la natura umana l'essere umano è troppo debole dobbiamo diciamo implementarlo come si dice aumentarlo eh eh l'augmented people persone aumentate con le tecnologie perché la natura umana è così debole eccetera eccetera e qui dobbiamo cambiare allora io dico no attenzione insomma stiamo un po' attenti perché la persona di cui stiamo capite che anche nei servizi di welfare del bene pensate tutto il campo bioetico eccetera tutti i servizi eh che riguardano diciamo la la persona umana no quando gli si applicano le tecnologie quando si mette un chip nel cervello che cosa è che si fa per aumentare le capacità adesso sto sto facendo degli esempi banali ma insomma per capirci eh eh cosa 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 succede se noi diciamo introduciamo un chip nel cervello colleghiamo una persona a un computer eccetera e facciamo in modo che la persona sia aumentata da da una tecnologia eccetera e lì è un bel problema perché la natura umana eh a quel punto non sappiamo più che cosa è proprio perché il discorso della persona anche nei servizi è un altro diventa un'altra cosa diventa il post umano diventa una post persona eh quindi eh il post personalismo in un certo modo allora io dico no ma insomma andiamoci un po' calmi eh parlo di un umanesimo relazionale nel senso che dico che la persona umana ha una natura originale che però si specifica attraverso le relazioni sociali nei contesti di vita quindi c'è una natura ma questa natura viene diciamo potenziata favorita indirizzata in un modo o nell'altro seconda del contesto relazionale questo però non può eh diciamo modificare ma solo potenziare o eh diciamo modificare una natura che c'è invece questo il modello verso il quale stiamo andando è proprio la negazione della della natura umana cioè che non esiste una natura della persona vabbè comunque eh vediamo il senso di una svolta allora eh al centro della personalizzazione così come diciamo il modello relazionale propone sta una nuova relazionalità fra l'operatore sociale e il cittadino che riconosce al cittadino il potere capacità di condividere il progetto piano del servizio cioè la sua implementazione e la sua valutazione quindi il servizio che viene dato a fronte di uno stato di bisogno non viene erogato attraverso la logica del menu eh oppure come nel mercato c'hai tanti vestiti diversi scegliene uno ma viene adeguata la domanda di senso espresso della persona faccio gli esempi delle riforme del sistema pensionistico ad esempio stanno andando in questa direzione diciamo fino a qualche anno fa c'era un modello pensionistico adesso la pensione si comincia a articolare la pensione è una una parte importante del welfare no? Eh in modo tale che ci siano varie opzioni cioè si può andare prima si può andare dopo ma siamo ancora molto lontani da renderlo veramente personalizzato e flessibile pensiamo al reddito di cittadinanza anche quello come ho detto prima è molto standardizzato ma si sta cercando di eh collegarlo alla rete e alla situazione relazionale della persona i servizi domiciliari e di e-care per esempio se se pensiamo tutti i servizi di di cura specialmente degli anziani attraverso eh l'elettronica diciamo attraverso l'informatica quindi telecomandi eccetera eccetera eh telecare e così via anche lì eh bisogna appunto vedere come si inserisce quell'intervento nella rete della persona nella rete della persona. Eh io vedo che il tempo sta molto scorrendo per cui mi propongo di dire ancora una cosa su quali sono i dilemmi della politica sociale e poi di fare qualche esempio diciamo per far capire la filosofia della valorizzazione della persona come tale nei servizi. Nel fare politiche sociali cioè per l'inclusione sociale per aumentare l'accesso appunto al sociale ai servizi eh eccetera noi abbiamo due eh problemi quello dei criteri eh perché abbiamo un problema di eh di criteri che possono essere il dilemma universalistico selettivo o incondizionale condizionale cioè un servizio è universalistico per tutti o è o è selettivo è selezionato. Per esempio si dice adesso l'assegno unico universale per i figli non è affatto universalistico è selettivo è importantissimo è basilare ma per mille motivi non è non è universalistico. Adesso spiego perché è è è sottoposto a condizioni o senza condizioni. Questo è un problema. L'altro è quello delle della governance in base alle logiche sistemiche cioè i meccanismi impersonali o a logiche di integrazione sociale cioè meccanismi relazionali. Facciamo degli esempi. Ecco. Allora per esempio gli assegni familiari come erano una volta no? E in molti paesi ancora ma non tutti sono universalistici e incondizionali. Cioè tu hai un figlio questo è l'assegno. Punto. Non voglio sapere che reddito hai, non voglio sapere che condizioni. Per ogni figlio c'è l'assegno. Ok? Questo vale in molti paesi ma l'Italia a partire dall'ottantatré, ottantaquattro ha cominciato a renderlo selettivo l'assegno familiare. Adesso viene sostituito per chi lo avrà dall'assegno universale perché come sapete l'assegno universale per i figli ingloba gli assegni familiari, le detrazioni e le deduzioni. Ma allora è selettivo perché viene diciamo non chiede condizioni. L'unica condizione è che hai un figlio ma è selettivo perché dipende dall'ISE che è il minstest che è la prova dei mezzi dipende da una serie di altre condizioni. Per esempio questo che invece è universalistico ma condizionale cioè deve rispettare determinati obblighi richiesti al beneficiario è la previdenza sociale che è basata sui contributi cioè è universalistico. Io lo do a tutti quelli che lo vogliono ma a condizione che abbiano i contributi. Non è selettivo perché ciascuno sceglie il suo piano contributivo quindi è autogestito, è progettuale in questo senso. Mentre quelli selettivi e incondizionali per esempio sono detrazioni e deduzioni fiscali cioè sono incondizionali perché non richiedono degli obblighi specifici. Tu hai una certa situazione e se sei selezionato cioè se hai la condizione della selettività li hai se non ho così gli assegni di cura. Il reddito minimo per esempio il reddito di cittadinanza da noi o l'RMI in Francia è selettivo e condizionale. Allora comunque insomma questo è uno schema per capire come l'accesso appunto al sociale no? L'accesso ai benefici sociali debba far fronte a questi dilemmi. Può essere universalistico o selettivo può essere incondizionale o condizionale. Quindi quando si prevede un beneficio bisogna dire è soggetto delle condizioni o no? È universalistico per tutti o è selettivo nel senso che è accessibile a tutti ma solo in base a selezione cioè alla prova dei mezzi. L'ISE se sei sopra non ce l'hai se sei sotto c'è. Va bene. Allora adesso le ultime battute su su quello che riguarda lo stato relazionale di cui parlavo no? Se ancora cinque minuti cos'è il welfare relazionale o di quarta generazione? Che cosa sono le politiche relazionali e quindi dallo stato sociale tradizionale lo stato sociale eh relazionale. Ecco per eh capire questo dobbiamo capire eh che diciamo la configurazione che noi possiamo scegliere per la nostra società eh è sostanzialmente di questi quattro tipi e questi quattro tipi derivano da dal se l'integrazione sistemica è alto o bassa. Sistemica vuol dire se i meccanismi di attribuzione dell'accesso al sociale sociale sono automatici o no? Automatici vuol dire se tu fai domanda per l'assegno X il ministero per finanze e politiche sociali te lo dà se sei nelle quindi è un meccanismo io non ho bisogno di relazionarmi a nessuno eh non c'è bisogno di relazionalità sociale nel nel fare questo perché c'è un meccanismo automatico come chiedere un certificato chiedere un cedigami si dal certificato va bene ora questa questa integrazione sistemica può essere alta cioè molto efficiente o bassa poco efficiente o inesistente l'integrazione sociale invece è quella che richiede una relazionalità sociale tra le persone tra i soggetti sociali per esempio la famiglia e l'impresa o le associazioni di un comune eccetera bene se bassa bassa cioè bassa integrazione sociale bassa integrazione sistemica noi abbiamo una società liquida il welfare è frammentato non c'è c'è una scarsa o nulla inclusione sociale perché non operano né i meccanismi personali né quelli personali questo è nelle aree marginali nelle aree periferiche molto marginali abbiamo questo tipo di situazione come si esce da questa situazione eh si può uscire o con le misure liberali cioè il mercato nel senso che l'inclusione avviene per segmenti sociali oppure invece andando verso le misure lab cioè l'intervento dello stato con l'inclusione attraverso il welfare assistenziale queste è diciamo la queste tre sono le situazioni oggi il nuovo stato sociale è l'inclusione sociale attraverso un welfare societario plurale cosa vuol dire vuol dire alta integrazione sistemica dei meccanismi istituzionali alta integrazione sociale come realizzare questa 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 configurazione è un discorso abbastanza lungo che passa attraverso appunto l'estensione dei diritti di cittadinanza con i diritti umani passando da soli attori pubblici al mix al welfare mix welfare societario societario privato plurale la costituzionalizzazione delle sfere private vuol dire dare una costituzione alle sfere private non sono libere di fare quello che vogliono ma devono avere una costituzione rispondere a dei principi a dei criteri e che alle quali quindi si danno anche delle funzioni pubbliche ma a patto che rispettino una costituzione di queste sfere di queste sfere private quindi non solo libertà e eguaglianza li bleb ma anche la solidarietà come valori distinti e simmetrici capite che noi siamo in un sistema ripeto molto basato su libertà e eguaglianza che vanno benissimo ma ci vuole anche la solidarietà che è la terza gamba che è la terza gamba e questa terza gamba dipende molto da dal fatto che si possa introdurre come eh terza gamba appunto la il terzo settore il mondo associazionale in posizione simmetrica quindi allargare la sussidiarietà a quella laterale circolare più reciprocità nessi fra libertà scusate fra libertà e responsabilità e dal welfare mix pubblico privato al welfare plurale cioè reti eh diciamo pubblico private miste e terzo settore e così via volevo diciamo siccome il tempo è poco eh eh andare subito a a degli esempi eh e in particolare il welfare di comunità di cui stiamo proprio parlando a Bologna l'associazione Achiller di Go stiamo lavorando per questo modello di welfare di comunità che è appunto un modello attento appunto a passare dall'individuo casuale dall'individuo utente invece alla persona soggetto della sua eh progettualità di di benessere comunque gli esempi che volevo fare sono tutti tutti esempi in cui il welfare eh diciamo si basa su questa filosofia della relazionalità tra le persone ma anche tra le persone lo Stato eccetera e vi parlavo prima della conciliazione famiglia lavoro i contratti relazionali no? Questo è un modello molto interessante perché ehm ripeto eh il benessere del del lavoratore non dipende solo da come lo tratti con il salario, le ferie, le norme interne all'azienda, alla divisione del lavoro ma anche in base a a a quanto tempo diciamo hai come lo spende in relazione ai bisogni della famiglia se se ha una famiglia se dei bambini se ha degli anziani e così via no? Normalmente diciamo le persone hanno un qualche tipo di famiglia vivono con delle quindi eh eh il problema è appunto avere dei contratti che riguardino la relazione fra il lavoro e la famiglia capite che la relazione fra il lavoro e la famiglia non è solo il lavoro in quanto tale la sua produttività, i tempi eccetera, la sua efficienza e così via ma è proprio il fatto che il il lavoratore che diciamo ha un contratto relazionale lavora più sereno e tranquillo perché sa che la famiglia ha i servizi di cui necessita c'è una fidelizzazione del lavoratore all'azienda, diminuisce il turnover dei lavoratori in un'azienda e questo io ho fatto molte ricerche anche qui nel bolognese con le piccole e medie aziende oltre che con le grandi, con le multinazionali perché devono capire che dare servizi al lavoratore in relazione al suo contesto di vita, dare questi servizi per i bandivini, gli anziani ma anche il coniugi eccetera, le altre persone della famiglia, non è una spesa dell'impresa, è un investimento, è un grande investimento e lo stiamo facendo e la Confindustria e l'Asso Industria di Bologna pian pianino l'ha capito e una serie di aziende hanno cominciato a praticarlo perché hanno capito che questo non solo risponda dei diritti umani, quelli relazionali appunto, cioè che il lavoratore quando lavora non è un individuo astratto casuale appunto come diceva Max, ma è una persona che ha delle relazioni, che è preoccupato per le persone che sono in casa, la moglie, il marito, i figli, l'anziano, i nonni, i nonni, quelli che siano le persone che abitano lì. Gender e family mainstreaming, questo è un'altra, questo è importante anche a livello europeo, cioè diciamo nelle politiche sociali tenere presente la prospettiva del gender e la prospettiva della famiglia, il modello integrato di assistenza miciliare, cioè che sia una, non solo curare una malattia, una situazione, ma il complesso della persona. Le alleanze locali per la famiglia, una direttiva dell'Unione Europea, cosa sono queste alleanze locali? Alleanze locali significa come sono anche in Italia i distretti famiglia che la provincia di Trento sta attuando, cioè una porzione di territorio, nel Trentino è facile perché corrisponde a una valle, ma noi potremmo farlo per un quartiere, eccetera. Come esiste il distretto industriale, distretto industriale vuol dire mettere insieme una serie di industrie per dei servizi e per delle attività comuni, si fa il distretto famiglia, cioè a dire tutte le entità che sono sul territorio fanno una politica family friendly, amica della famiglia, per cui nelle valli tutti diciamo questi attori si ritrovano, per cui hai la banca, la scuola, l'ospedale, amica della famiglia, i negozi, il cinema, le teleferiche, le cose per gli sci, gli impianti sciistici, eccetera, che fanno diciamo una politica attenta alla persona nel contesto della famiglia. Ecco, vengo, diciamo, la Taghe Smüter, la madre di giorno è un altro esempio, il welfare di comunità, ecco, ma l'idea è quella della coproduzione, capite? Questo è un po' forse, diciamo, il principio di sintesi di tutto il discorso. Finora nella distribuzione tradizionale dei servizi c'è un'offerta pubblica, c'è un produttore che offre al consumatore che fa una domanda privata. Qui c'è un feedback individuale, cioè le reti di relazioni sono basate sul fatto che il consumatore accetti, non accetti la produzione, l'offerta del servizio. Questa è una rete, diciamo, fatta in questo modo, cioè è un incontro in un certo senso di scambio di mercato. Io ti offro questo e tu accetti, non accetti, eccetera. La coproduzione invece, vedete, significa che viene prodotto assieme il servizio, nel senso che c'è una network di cittadini che si interessa di come viene dato, prodotto a un determinato servizio. Per cui le reazioni, gli scambi, diciamo, fra cittadini e l'offerta dei servizi viene mediata da uno spazio in cui assieme si trovano per progettare il servizio, valutare il servizio e così via. Quindi qui c'è una riflessività che non è più quella dell'individuo come tale, ma è una riflessività sulla relazione tra, diciamo, i produttori e i consumatori. In un certo senso sono insieme chi offre, chi fa servizi, chi dà servizi e chi riceve servizi sono insieme produttori e consumatori. In questo senso è la coproduction, viene un po' dalla Svezia, è un modello scandinavo, che, diciamo, mi avvio verso la fine, si riferisce al welfare di comunità, che è il progetto che per il comune di Bologna in specifico ha e sta diciamo realizzando l'associazione Adigo in collaborazione col comune. Quali sono i principi, diciamo? Primo, è realizzato da una pluralità di attori attraverso la governance sociale, cioè il coordinamento sociale, non government, non è un governo, il government è direttivo, la governance è un coordinamento, è una partecipazione, riducendo al minimo il government, cioè, diciamo, la direttiva politica, il comando politico. Pluralità di attori vuol dire tutti quelli che si interessano di quella persona e la persona viene coinvolta come partecipe del processo del servizio. Opera quindi con un paradigma relazionale, che significa lavoro relazionale, che procede valorizzando le relazioni, i legami sociali, che esistono, quelli che la persona ha, oppure costruendo nuove relazioni fra gli attori, sia fra i beneficiari, con il metodo del lavoro di rete, cioè il lavoro relazionale, il lavoro sulle relazioni. Questo è molto importante, sapete, per Bologna, perché Bologna ha la metà delle famiglie che sono al massimo composte di due componenti. I single-single, che sono in maggioranza anziani, ma non solo anziani, sono una quota che ormai arriva al 40%. Quindi voi sapete che insomma essere soli o al massimo in due è una forte debolezza sociale. Più frammenti la famiglia, più le famiglie hanno bisogno di servizi, perché quando le famiglie sono robuste, diciamo, c'è un aiuto, c'è il valore aggiunto delle relazioni che hanno, eccetera. Quindi il dato fondamentale che viene questo welfare di comunità progettato e valutato assieme dai cittadini, chiamiamole comunque utenti, attraverso la coprogettazione e la validazione comune dei risultati, utilizzando interventi di osservazione, diagnosi e guida relazionale, cioè l'osservazione fatta sulle relazioni, viene fatta una diagnosi sulle relazioni, le relazioni sono valide, non valide, sono, producono beni relazionali oppure creano delle patologie, dei problemi e poi si fa una guida relazionale che non è direttiva, ma appunto perché è fatta partecipando da parte di tutti. Persegue la creazione di capitale sociale, cioè la creazione di fiducia, cooperazione e reciprocità, a partire dalle reti primarie e valorizzando i processi di coproduzione dei servizi. Non posso adesso dilungarmi, c'erano le varie slide per farvi vedere il governo a livello macro, a livello micro e a livello miso, questo è il tema, diciamo, del progetto di welfare di comunità. Soltanto volevo farvi osservare che ogni servizio può essere valutato in base a tre criteri, cioè se le condizioni dell'intervento sono relazionali, se l'oggetto è una relazione, per esempio nell'educazione, l'educazione è un servizio essenzialmente relazionale, perché il grande problema è la relazione, come l'assistenza agli anziani, non è una questione di protocolli, quello che è in gioco è una relazione, no? Ecco, e in base agli esiti, cioè se la relazione che viene generata è buona o è un problema. E allora abbiamo qui, se utilizziamo questa che è una slide che io faccio per i servizi sociali, andiamo dagli interventi totalmente relazionali, come sono i servizi educativi, per esempio nelle scuole, a quelli totalmente discreti, per esempio i servizi burocratici. Cioè in base al tipo di relazioni che il servizio per la persona, ecco, perché la persona è costituita relazionalmente, siccome è costituita dalle relazioni, capite? Insomma, secondo me è questa la prospettiva, cioè noi avremo una personalizzazione dei servizi quando capiremo che la persona deve soprattutto gestire le sue relazioni. Certamente è importante che abbi in reddito, come detto, delle cose essenziali, ma questi sono solo dei prerequisiti per poi avere delle buone relazioni. Un altro esempio più applicativo è la Casa della Salute del Comune di Bologna, di cui volevo anche qui parlare, ma è proprio, io credo che se si fa qualcosa in questa direzione, la Casa della Salute, che è un nuovo servizio che viene fatto alle persone a Bologna, sia importante proprio tenere la prospettiva relazionale. Ecco, avevo messo un pochettino di bibliografia e vi ringrazio anche perché è stato fatto un pochettino. Grazie, grazie al professor Donati che ci ha portato verso un mondo ideale che a noi piacerebbe molto di vedere realizzato. Faccio solo un brevissimo commento in attesa dei vostri interventi, delle vostre domande. Questo welfare di comunità che si potrebbe realizzare o almeno in certe condizioni anche di benessere di una società si possono realizzare, potrebbe essere un antidoto concreto verso la ribellione alla globalizzazione? Perché la globalizzazione c'è e non la possiamo, non si torna indietro, non è possibile perché la globalizzazione è una rete di relazioni e che non si possono più spezzare una volta che sono costruite, però produce un senso di spesso di estranità o di isolamento nei singoli o nelle piccole comunità e quindi questo recupero di un'identità comunitaria fatta di relazioni, così ascoltandoti mi faceva pensare che poteva essere una compensazione. Domande? Interventi? L'argomento è complesso. Questo obiettivo è anche molto costoso. Sì? Adesso arriva il microfono professoressa Cifarelli. una domanda che riguarda molto quello che è stato detto a proposito della famiglia e del e del welfare della famiglia. Mi chiedevo ehm quale possa essere il il legame esatto tra demografia e demografia e questo modello di di welfare. Per esempio un conto è il nostro paese che ha o i paesi europei o americani un conto per esempio altre altre realtà dove la derivata non è eh delle famiglie cioè dell'incremento è positiva invece che negativa dell'incremento demografico. Eh rispondo subito perché se no dopo me li dimentico eh dunque intanto la tua osservazione è giustissima infatti come sai gli specialisti parlano di glocale cioè la globalizzazione che diventa diciamo locale e secondo me la globalizzazione che abbiamo conosciuto tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo cioè tra gli novanta e la prima decada del duemila è ormai in crisi come tutti vediamo ehm perché c'è un ritorno appunto alla radica ma alle radici eh e la globalizzazione ha provocato questo quindi eh adesso abbiamo bisogno di bilanciare eh la globalizzazione con diciamo le radici locali le la specificità culturali la comunità l'identità delle reti locali eccetera. Questo cosa significa? Significa che dobbiamo attivare una riflessibilità nuova cioè un modo di riflettere sulle nostre relazioni quando sono globali e quando sono locali. Eh per cui eh usare internet usare il telefonino per parlare con il mondo intero con l'America o l'Australia no ma non conoscere il vicino di casa vuol dire che noi dobbiamo riflettere un attimo dobbiamo attivare anche dei processi formativi anche sulle nuove generazioni per saper riflettere ogni volta sul tipo di relazione diversa per cui abbiamo bisogno del vicino di casa delle persone diciamo che stanno intorno a noi conoscerci eh sapere incontrarle sapere eh fare attività a livello civico eh o delle reti primari delle reti di amicizia eccetera e cioè dobbiamo imparare a gestire le relazioni a seconda della loro portata del loro genere eccetera perché la globalizzazione ci ha portati in un mondo astratto diciamo impersonale diciamo anche quando si parla con con magari anche con un parente negli Stati Uniti non è la stessa cosa che averlo di fronte no? Eh e questo modifica proprio anche il senso del sé, dell'io, dell'identità personale eccetera. Eh professore Cifrelli dicevo questo sì la c'è un rapporto molto stretto fra demografia e politiche sociali per la famiglia eh lo dimostra il caso della Svezia. La Svezia ha un tasso di natalità molto superiore all'Italia. Eh pensate che appunto noi già 35-40 anni fa dicevo ma state attenti il tasso di natalità a Stoccolma è di gran lunga superiore a quello di Napoli ma vi rendete conto? E come si spiega questo fatto? Si spiega questo fatto non nel fatto che gli svedesi vogliono tutti i costi eh fare più bambini che a Napoli o nel sud del Mediterraneo ma nel fatto che loro ehm diciamo privilegiano i servizi per le donne rispetto al nostro sistema che ai figli eh diciamo da anche dei servizi ma privilegia l'aspetto monetario almeno è stato così fino fino ad ora e anche adesso è così eh cioè voglio dire si dà certamente l'assegno unico va bene sono soldi però il problema per le donne dal punto di vista della possibile maternità eccetera è avere soprattutto servizi l'asilo nido la scuola servizi di di care di respite eccetera per per i figli allora la la connessione è questa le politiche sociali e familiari devono guardare soprattutto a queste relazioni ripeto il reddito è importante è un fattore base ma ehm agli effetti della demografia cioè della eh diciamo della quindi del tasso sostanzialmente di natalità eh sono soprattutto i servizi quelli che contano servizi sociali servizi di cura servizi di assistenza in tutti i sensi educativi e di rispite cioè di di poter avere insomma avere un momento di respiro eccetera eccetera se si fanno queste politiche per le famiglie il tasso di natalità aumenta e siccome siamo l'Italia come sapete io già da quarant'anni ho detto che le politiche italiane e dal punto di vista demografico erano un suicidio e sono un suicidio ed è e non è possibile vedete non tutti gli anni ci si meraviglia che diminuiscono il numero dei bambini questo Paola Monari me lo può insegnare dal punto di vista statistico demografico è ovvio perché diminuiscono le corti di di donne in età feconda siccome diminuiscono continuamente le donne potenzialmente madri come numero diminuiscono è un ritorno è un ritorno è uno è infatti io ho scritto politiche suicidogene perché questo vuol dire suicidare si può contrastare se se e diciamo così tra il 35 e il 40 per cento delle donne nella loro vita avessero almeno tre figli tre figli o più il che capite che è un obiettivo pressoché è impossibile però se se si fa una politica familiare molto accorta appunto dal punto di vista relazionale cioè io penso almeno le ricerche dicono questo che che le donne in generale anche avrebbero a compiacere tre figli se avessero tutti i servizi di sostegno per questi figli perché se devono andare a lavorare col pensiero del bambino qua e là andarlo a prendere d'accordo eccetera tutto quanto e non lo fanno quindi la parola chiave è servizi relazionali per le famiglie per le donne particolare prego grazie buonasera io volevo fare un paio di domande rispetto proprio a tutto quanto quello che è stato il discorso generale allora innanzitutto mi ero appuntata questa cosa perché mh rispetto al modello Lib Lab che di cui le parlavo ovviamente penso che alla base c'è mh che il modello Lib Lab abbia creato a livello proprio generale soprattutto in Italia una differenziazione proprio territoriale anche dei servizi non è che potrebbe abbassare un po' la ma scusate che se no non la sento ecco se voi siete d'accordo io la passo grazie solo per un momento sì grazie che il modello Lib Lab ovviamente ha creato delle differenziazioni all'interno anche territoriale della stessa nazione sì quindi che mh anche l'articolo 119 della Costituzione poi eh insomma prevedeva un intervento dello Stato laddove c'erano delle grosse differenze a livello di servizi sociali all'interno dello Stato e questa cosa purtroppo non è mai stata sanata perché sappiamo benissimo quanto è differente i servizi i servizi i modelli i vari modelli all'interno dello stesso Stato quindi eh mi spiace che ehm si è iniziato ci sono dei dei territori in cui si va avanti e si inizia a parlare di welfare di comunità e territori in cui non esistono proprio neanche i servizi base e proprio sulla base di questo le volevo fare una domanda o comunque una considerazione cioè è vero che i servizi individualizzati standard come possono essere il reddito minimo in Francia e come può essere il reddito di cittadinanza che alla fine secondo me non è soltanto una cosa individuale solamente monetaria ma è una presa in carico della famiglia io facevo la case manager per il reddito di cittadinanza quindi si aveva una presa in carico della famiglia anche se poi purtroppo si è ridotto ad un mero contributo economico però eh tutti quanti quei servizi che stanno alla base che sono come il servizio a reddito o come per esempio l'housing first che che sono tutti quei servizi che danno casa alle persone senza fissa dimora sono tutti quei servizi che danno dei delle eh danno alla persona una eh una base che possa poi eh in qualche modo fare in modo che la persona stessa possa creare delle relazioni e possa entrare a far parte di una comunità mettendosi però al pari con gli altri proprio rispetto al principio di uguaglianza non solo formale come faceva vedere prima nel comma uno ma anche sostanziale come poi cita invece l'articolo il comma due della dell'articolo della Costituzione quindi che sì è vero esistono dei servizi eh che non sono eh eh individualizzati ma sono standardizzati ma quanto questi sono concatenati poi per la buona riuscita di un welfare eh di un community welfare quindi di un welfare di comunità cioè secondo me le cose sono unite cioè una persona deve stare per poter parlare di relazione di servizi che vanno oltre deve comunque essere eh ad un ad un buon livello cioè nel senso deve avere una casa deve avere un reddito per poi parlare di relazioni non so se mi sono spero un po' intricato il discorso sì sì grazie grazie mille della giustamente più del dell'osservazione dell'intervento della della domanda insomma eh però confermo questo cioè io ho parlato eh del fatto che occorre una base la safety net cioè la rete di sicurezza minima eh quella deve essere universalistica e incondizionale va bene poi dopo di che eh ci sono ovviamente diciamo queste politiche relazionali un po' più sofisticate più ricche eccetera e dipendono un pochettino dalla dall'iniziativa dei territori insomma è chiaro che ci sono territori più più imprenditoriali io citavo la provincia di Trento perché secondo me Trento è un modello eh per l'Italia da questo punto di vista eh delle politiche sociali eh da tutti i punti di vista eh ma perché perché Trento eh diciamo si riferisce molto alla Germania e la Germania si sta riferendo molto agli paesi scandinavi. Il disegno che io ho fatto è molto diciamo cioè questa idea del welfare relazionale eh guardi che appunto è molto sviluppato nei paesi scandinavi Svezia, Danimarca soprattutto in parte la Norvegia, la Finlandia per quanto riguarda la sanità eccetera eccetera e da loro ci vengono queste queste nuove modalità eh di eh di fare servizi relazionali alle famiglie. Per esempio la Tagge Smüter non so se lei ecco la Tagge Smüter è diciamo è arrivata a Trento via Bolzano via Germania dalla Danimarca e dalla Svezia per dirne una e tante di queste cose. Cioè io capisco il disegno che io vi ho fatto insomma la presentazione che ho fatto è chiaramente ho cercato di far capire che qualcosa si sta muovendo in quella direzione ma è chiaro che la maggior parte è la speranza cioè è un'indicazione di cosa dovremmo fare. Certo. Certo. Sì 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 sì. Però anche nei servizi standardizzati a mio modo di vedere si può e si deve coinvolgere anche qualche attore che non sia quello dello Stato o comunque delle istituzioni pubbliche. Si possono anche ad esempio insomma mettere delle norme alle imprese private. Quando parliamo di corporate citizenship per la cittadinanza di impresa vuol dire che le imprese hanno degli obblighi di implementazione di certi servizi anche standard per i per i dipendenti. La corporate citizenship è praticata molto negli Stati Uniti e è quella che c'è perché loro privilegiano il mercato però noi possiamo prendere quel modello applicato alla impresa prende il modello svedese o danese e applicarlo cioè potremmo farlo solo che diciamo purtroppo diciamo io conosco un po' il ministero delle politiche sociali è un po' indietro insomma io lo giudico un po' indietro pensi che sì un amico mi ha detto qualche anno fa se ti viene il dirigente qui il direttore del del ministero delle politiche sociali che vorrebbe sapere cos'è il terzo settore ecco cioè che che vorrebbe sapere cos'è il terzo settore. certo eh per raggiungere questi obiettivi sarebbe fondamentale anche avere una amministrazione un governo della cosa pubblica adeguato. Adeguato perché eh ci sono delle eccellenze ma ci sono anche tante inerzie e e qui poi si si potrebbe aprire tutta la questione del terzo settore che è estremamente complessa perché eh come accennavi tu ha certamente bisogno di essere un po' risistemato ci sono nel terzo settore delle realtà eccezionali che tanto fanno e tanto potranno fare ma c'è anche una pletora che confonde confondente non che siano realtà non interessanti o non ben motivate ma sono troppe e sovrapposte confuse ma qui tu ci prepari un'altra un altro incontro perché il tempo passa e gli argomenti questi sono argomenti che ci toccano molto sia dal punto di vista scientifico che che da da umano da cittadini quindi ti ringraziamo molto preparati preparati per il prossimo incontro e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti